Buonaится e buona relazione. Inizia l'incontro di Homeobrazio di Parale, di Apathia, di Tales of Θr residential, di Source, Francesco Fioni, Guadalessandro, T 이 Rockч dosi di Carια, Caropi, Val Gross, e poi con formazione con la Luzi del ministero di Car superstitima di Carac uhm e poi un polt'asso chievo del fianato l'azzo Fiori non l'aiippolo né Grazie a Tovalieri, Fandane, Sampo Tovalieri, in segnale del gore, Tovalieri, metta al centro, tra il paio il tiro, il paio è portato a Tovalieri, 2 e 7 gols per la gamba. Maialdaro, ora Maialdaro avanza malo al piede, attacando dai fermi, grazie a Maialdaro. Il giro di Evangelisti che cerca ancora Maialdaro, in area di rigore, mette giù il pallone e tiro a Tovalieri. Grazie a Tovalieri, Fandane, Sampo Tovalieri, Fandane, Maglielano, grande giocata, ancora Maialdaro va sul fondo, cross, e poi, Fandane, Sampo Tovalieri, con riva sul pallone. Signori, Mario Panzonni che va a cross, facendo mette fuori, Maialdaro, lasciate Evangelisti, trova il tiro a Evangelisti. Il pallone è sul centro. Sampo Tovalieri, ancora Dovalieri, rimette al centro, Fandane, riesce in qualche modo. IE, servizi per cericoni e pasticceria per il passaggio. Sampo Tovalieri, ancora Dovalieri, rimette al centro, Annini, riesce in qualche modo. Il stacco mi interessa, il pallone è il consulatore, il passaggio da Pagliano, il cappellano di Pagliano. Il patrobore, il rancio alla Pagliano, il patrobore di Pagliano, il nostro compattore ancora Loro. Di Pagliano, ancora Pagliano. Un tiro di Pagliano, Parikgiano. Un solo di Pagliano, ancora Pagliano. Un tiro di Pagliano, Parikgiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.